Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Vi parlo di che cosa? Vi parlo di questo libro. Recensione di solito non le faccio singole, anche se spesso mi piacerebbe farle su alcuni libri, soprattutto mi viene la voglia di farle. E questo è uno di quelli, l'ho appena finito, sto aspettando ospiti, vedete che sono nella mia casetta di Como. E quindi niente, ho detto, mentre aspettiamo gli ospiti, facciamola questa recensione, perché merita. Allora, il libro è Christmas Horus, un dinosauro per Natale, di Tom Fletcher. Tom Fletcher scopre essere un cantante, io non lo conoscevo, questo ragazzo. E lui mi è stato subito simpatico, perché è un cantante dei McFly, che non conosco, andrò a sentire qualche canzone. No, è nella parte finale del libro, pensavo fosse nella terza di copertina. Ecco le 10 cose preferite di Tom a Natale, selezionate da una lista di mille. Voi sapete io quanto adoro il Natale, voi sapete quanto mi piace il Natale. E trovare un'altra persona che come me condivide questa passione, insomma, questa ossessione quasi, insomma, per il Natale, è sempre piacevole. Insomma, poi nel corso della vita ho avuto la fortuna di incontrare tanta gente malata di Natale. Cito Laura Venturelli, perché mi regalò questo libro nel 2018. Cito Erika, Elfo, Inzaiba, ma poi c'è un sacco di gente, mia figlia, che evidentemente lo sarà. E lui è già, ha già con le tutine, le cose, va bene. Christmas Wars è un libro bellissimo, è un libro che viene consigliato per lettori dai 9 agli 11 anni, ma è un libro che secondo me tutti gli avanti del Natale dovrebbero leggere. Di che cosa parla questo romanzo? Allora, questo romanzo parla di un bambino, si chiama Tom, non è vero, Tom è l'autore. William è il nome del bambino, che trovate qua in copertina, che ha un sogno. Il suo sogno è quello di possedere un dinosauro. Parallellamente si scopre, cercherò di non fare spoiler, ovviamente, quindi piano piano, laddove dovessi incampare in spoiler, mi fermo, faccio un passo indietro e, insomma, eccolo, perché se faccio spoiler invece sarebbe brutto. Parallellamente succede che nel Polo Nord viene ritrovato un uovo di dinosauro, eccolo qua, dal quale nasce giustamente il Christmas Horus. Da qui nascono delle avventure, c'è questo bambino appunto in carrozzina, vive con un padre single, che, insomma, per il quale sogna una storia d'amore, la chiederà Babbo Natale, ma Babbo Natale c'ha dei limiti, viene bullizzato a scuola da una bambina, che però poi, insomma, si scopriranno cose. Sulle tracce del crinosauro c'è un cacciatore feroce, i protagonisti, tra l'altro, li trovate disegnati nella parte iniziale del libro. Eccoli qua, quindi c'è il protagonista, il papà del protagonista, grande amante del Natale, e si scoprirà poi anche il perché verso la fine, ovviamente Babbo Natale, il cacciatore, l'uovo da cui nascerà il Christmas Horus, la bolletta della scuola e i, qui li chiamano folletti, ma insomma, vabbè, saranno sempre comunque elfi, vero, Erika. È un libro bellissimo, è un libro innanzitutto, è un libro illustrato, spesso, allora, parte qui nelle parti, diciamo, iniziali, nella parte superiore di ogni capitolo ci sono sempre delle illustrazioni differenti. Ma le illustrazioni sono proprio nel corso di tutto il romanzo, cerco di trovare immagini che non creino particolari spoiler, e la cosa bella è che spesso e volentieri interagiscono con il testo. Per esempio, in questo caso non c'è un'immagine solo su una pagina, ma viene sbordata sulle due pagine, oppure, per esempio, ci sono dei disegni che iniziano in una pagina e proseguono nella pagina accanto, immagini bellissime, disegni stupendi, fatti, credo, a matita, insomma, meravigliosi di questi, di tutti i protagonisti, i quali non potreste, non potete fare altro che affezionarvi, insomma, mi spiega anche come fa Babbo Natale a passare dai cammini. Le illustrazioni sono veramente, veramente, veramente bellissime, il Christmas Horus è fantastico, è arrivato alla fine che lo amerete alla follia e vorrete come William un dinosauro per Natale, ci sono anche dei font strani quando succede qualcosa di particolare. Insomma, un romanzo, tra l'altro, nella parte subito interna, insomma, nella prima parte del libro si trovano immagini del Polo Nord, libro meraviglioso, libro quasi del tutto sconosciuto, il costo non lo so perché, ripeto, è stato un regalo di Laura, e di Tudea, immagino che costa, insomma, costano tutti i libri troppo, ma questo vale la pena comprarlo, insomma, perché è un romanzo che, secondo me, come questo intendevo, ci sono, vedete, passaggi e movimenti nel testo, è un romanzo che, secondo me, innanzitutto contiene grandi messaggi, parla di diversità, parla dell'importanza della diversità e la rende non diversità ma autenticità, quindi il meccanismo è un po' questo, no? Il pensare alla diversità generalmente porta all'esclusione, porta a, diciamo, tutti essi uguali, tutti precisi, in realtà in questo romanzo si sottolinea una volta di più e non è mai male farlo, quanto la diversità in realtà sia ricchezza, sia valore, sia autenticità, sia, insomma, io so io, te sei te, e insieme creiamo qualcosa di nuovo, no? Nell'incontro, si può essere tutti uguali, che ti fa, insomma, ecco, questo è un po' il sunto, messo molto meglio all'interno del romanzo, ma il sunto è quello. È un romanzo che va letto, io poi ne parlavo su Instagram, con alcune persone che vi chiedevano notizie in merito a questo libro e molte di quelle persone erano o mamme o papà. Mi chiedevano appunto va bene per mio figlio e dicevo assolutamente sì, perché può andare bene per un bambino di sei anni se viene letto dai genitori, è una bellissima fiaba natalizia, va bene per un bambino che legge già romanzi da solo o che vuole iniziare a leggere romanzi da solo, ma va bene per tutte le età. Se amate il Natale e amate lo spirito natalizio, qui c'è tutto questo, si parla di Polo Nord, c'è Babbo Natale, ci sono gli elfi rennevolanti e non solo, c'è Babbo Natale che è fantastico, viene poi illustrato e disegnato in una maniera assolutamente fenomenale, voglio trovare qualche illustrazione sua perché merita veramente, è un'illustrazione triste del Babbo Natale, il Babbo Natale deve essere contento, troviamo un altro, ce ne sono un sacco, aspettate che ve la cerco, quindi eccola qua, questa immagine è molto molto bella. è potentemente natalizio, si respira il Natale e ci tenevo a parlarvene perché appunto, ripeto, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite Laura e quando tra l'altro me l'ha regalato ho avuto un po' delle perplessità, non rispetto al regalo, ma rispetto a leggerlo, perché per quanto mi piacciono gli onghe d'olte, mi piacciono i libri anche per ragazzi, pensavo fosse troppo per bambini, e quindi a quel punto dico, vabbè aspettiamo domani quando arriverà Briseide, giustamente, che nel 2018 era solo una fantasia e oggi è una realtà fantastica, ma va bene, in effetti non voglio entrare perché se mi sopparate Briseide, ciao, e in realtà quest'anno mi chiamava e l'ho letto e mi è spiaciuto non averlo fatto prima, quindi ripeto, vi piace il Natale, vi piace l'idea di regalare un libro potentemente natalizio, beh questo è il libro che fa per lui, e poi è molto originale, perché mettiamo un dinosauro, che è propriamente il soggetto tipico natalizio, all'interno di una storia follemente natalizia, quindi super consigliato ragazzi, ecco leggetelo e fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo libro, perché veramente secondo me merita un sacco. Ragazzi io vado ad aspettare gli ospiti e ora vedo cosa fare, perché pensavo di non finirlo oggi, e quindi non mi sono portato un altro libro, quindi andrò a fare altro, vediamo, in qualche modo vi devo intrallazzare, perché mi manca ancora un po' di tempo prima che arrivino gli ospiti. Vi auguro buone cose, buone, oggi è il 15 di dicembre, quindi buon avvento, ci sarà qua dieci giorni a Natale, è impressionante. Tra l'altro la cosa bella di questo libro che diceva, vediamo se lo trovo a giolo, che diceva, questi sono i ringraziamenti, dice eccolo qua, e questa è la cosa meravigliosa del Natale, non è spoiler in senso, non è, e questa è la cosa meravigliosa del Natale, ogni giorno che ci allontana dall'ultimo Natale e ci avvicina al prossimo, e su questo ve ne vado, perché so io trovavo tutto quello che cercavo in questo libro, e tra l'altro vi spiega cose di Babbo Natale, quindi se avete dubbi, incertezze, curiosità, qua vi dà tutte le risposte. Christmas Horus ragazzi, leggetelo, Un dinosauro per Natale di Tom Fletcher, e di Todea, me ne vado, ciao, state bene ragazzi? Grazie.